Oggi assaggiamo una birra italiana, si tratta di una gose del birrificio Balsen di Bolzano. Come anticipato prima della sigla, appunto, si tratta di un birrificio italiano, il birrificio si chiama Balsen Brow e si trova a Bolzano. Il nome di questa birra è Gosexy, per leggere con la S di gose, appunto. Lo stile è una gose, 4,3 il volume alcolico di questa birra, il prezzo non lo conosco perché mi è stata regalata da un amico al compleanno e non voglio andare a googolare il prezzo di un regalo. Il bicchiere consigliato per questa birra, allora, sulle gose metto di non essere particolarmente esperto di averne bevute poche. Ho trovato diverse informazioni, alcuni suggeriscono bicchieri a colonna o pills, altri invece indicano la pinta come un bicchiere comunque valido per questa birra. E sì, si tratta di un primo assaggio. Allora, come dicevo, prima sul bicchiere, giusto perché ne ho parlato nella scheda, ho letto diverse cose. C'è chi suggerisce bicchieri a colonna, chi la pinta invece è classica da pub inglese. In questo caso io non avendo un bicchiere a colonna, quindi appunto cilindrico. Ho questo bicchiere qui che è una via di mezzo tra, sì, una colonna e un pilsen come bicchiere. Il primo bicchiere è brandizzato, vabbè, Menabrea, però è l'unico che avevo in casa in questo momento che si potesse avvicinare un po' a questo stile. Per quanto riguarda invece l'estetica della bottiglia, allora, sulla parte superiore del tappo c'è la B, che è il logo del birrificio Balsen, appunto. Mentre nella parte frontale abbiamo la scritta GoSexy, è scritto GoSexy con un font X e Y di sexy in un altro font e c'è appunto una signorina seduta sopra la banda recante, il logo GoSexy. Sotto c'è riportato Sour and Salty, infatti le caratteristiche delle GoSexy sono proprio queste due tipicamente. L'essere sour, quindi essere acida, e essere una birra salata. Nella parte posteriore sono riportati gli ingredienti, sia in tedesco sia in italiano, e gli ingredienti ci aiutano a capire quali sono poi le caratteristiche tipiche di questa birra. Acqua, malto di frumento, malto d'orzo. Notare, malto di frumento è scritto prima di malto d'orzo. Infatti nelle GoSexy si usa orzo e frumento, entrambi maltati, e le percentuali possono essere vicine a 50-50, o come in questo caso la parte di frumento supera probabilmente di poco, ma supera in quantità quella di orzo, di malto d'orzo. Altri ingredienti, luppolo, coriandolo, sale e lievito. Coriandolo, quindi ci aspettiamo già probabilmente una speziatura al naso, e il sale sarà una delle caratteristiche. Tipicamente le GoSexy hanno tutta una tradizione nella zona di Lipsia, dove hanno avuto parecchio successo. Le GoSexy tipicamente erano salate, perché venivano fatte con delle acque salate. Oggi ovviamente le GoSexy vengono prodotte anche nel resto del mondo, non solo in quella zona della Germania, semplicemente aggiungendo il sale. Passiamo quindi all'apertura della birra. Elimino un po' d'acqua, perché ho appena lavato il bicchiere. E' presente un pochino di fondo, che lascio nella bottiglia, perché se non abbiera molto chiara vorrei tenerla limpida. A dire il vero, una piccola percentuale di lievito esausto sul fondo mi è caduta, e si vede in effetti una piccola zona un po' più velata nella parte superiore, che si è poi via via diluita lungo tutto il cilindro del bicchiere. Allora, per quanto riguarda l'analisi visiva, iniziando appunto dalla schiuma, c'è una schiuma abbastanza irregolare, non particolarmente persistente, perché si sta smontando praticamente subito. La birra è un giallo paglierino, forse leggermente opalescente, ma leggermente, e sicuramente non velata, però. Passando quindi alla parte aromatica al naso. Al naso, allora, interessante, l'intensità non è elevatissima, ma se non sapessi che questa birra era una gose, avrei pensato subito a una saison. A certe saison con molto frumento, e sicuramente molto speziata. Si sente tanto la spezia, ce l'aspettavamo, il coriandolo, è indicato anche negli ingredienti. A differenza di, per esempio, adesso mi viene in mente la saison Dupont, molto speziata al naso, ma non è presente alcuna spezia nella ricetta. È semplicemente un utilizzo magistrale del lievito, che riesce a tirare fuori tutti dei fenoli che poi al naso ricordano queste spezie. In questo caso invece no, il coriandolo è aggiunto, e si sente sicuramente al naso. Oltre a questo speziato, devo dire che forse c'è un leggero fruttato, ma sicuramente è in secondo piano rispetto, ovviamente, a questa speziatura molto importante. Per quanto riguarda il palato, allora, che dire, ci aspettavamo sicuramente il salato, ed è una delle cose che ci si accorge subito bevendo questa birra. Non è un salato esagerato, eccessivo, anzi è perfettamente in equilibrio con l'altra grande componente in bocca, che è sicuramente il malto. Quindi questa dolcezza del malto, bilanciata dal salato, è quasi impossibile avvertire una parte amara, anche sul finale. Tipicamente birra che magari iniziano molto boccata e molto dolci, poi scatenano l'amaro sul finale. In questo caso, no, il lupolo sicuramente non è tra le componenti più importanti a livello proprio gustativo. Di conseguenza, appunto, c'è questo dolce bilanciato dal salato. C'è effettivamente anche una discreta acidità, non è elevatissima, ma si sente comunque una buona acidità in bocca. Acido e salato stanno bene assieme, molto spesso, le gole sono un bel esempio, anche in certe belle airways. Sono accostamenti e sensazioni in bocca che si sposano molto molto bene. Sempre per stare sulle sensazioni boccali c'è una discreta frizzantezza, si vedeva già dalle numerose bollicine durante appunto il servizio. Infatti troviamo questa buona frizzantezza in bocca. Il grado alcolico molto contenuto, secondo me associato anche all'acidità, rende una birra molto beverina, facile da bere. E se si è abituati a prodotti acidi, non per forza birra, ma comunque alla sensazione di acidità in bocca, può essere anche una birra dissetante ottima per l'estate, soprattutto perché il grado alcolico è molto contenuto. Questa quindi era la Go Sexy di Balzenbrau Skoll. Il grado alcolico